Chi pensasse minimamente che ci si trova all'interno di una lap dance o di un night, si sbaglia. Ci troviamo all'interno di una salumeria di Quarata, dove questa signorina torzolissima, che si chiama Valentina Marconi... Grazie, mio amico, salve, buonasera. Nel senso, pura, una donna vera. Vuole giocarsi una chance per entrare al grande fratello, perché quest'anno c'è una situazione particolare, tramite i voti vostri. Che fosse la volta buona, soprattutto, perché dopo anni e anni di provini, praticamente, che non si è inizia mai il discorso, ma io e l'inizio... Hai tanto detto che sei torzolissima. L'hai presente la mela? Ti sei il torzio. Ho mandato il mio video amatoriale, se così lo vogliamo chiamare, al sito al quale voi potete accedere, www.grandefratellocastingonline, dove lo è visibile a tutti, in una classifica di partecipanti. Tra tantissimi video ne sono stati selezionati 100, il mio è rientrato tra questi 100. Adesso ho un codice di televoto, dove appunto voi potete contribuire ad avvicinarmi alla Porta Rossa, anche perché innanzitutto ci vogliono i voti e soprattutto ci vuole anche un grosso lato B, oltre i voti, perché... Faccio vedere, scusa, intanto... Il lato B, come potete vedere, c'è. B, ecco, e... Anzi, siccome so che da casa te lo tocco tranquillo. Ecco, appunto, no. Ma c'è un bel culo. Ma, ma, ciao, no, non ti preoccupare, è il mio amico. Ascolta, tanto se deve entrare al grande fratello, deve essere pronta a tutto. Vero, sì, che fai? È certo, che fai? Certo, giusto. Ma lì dentro sai che si coprono con le coperte, se la sganciano, le fanno di tutte. Ah, sì, addirittura. L'hai visto mai, grande fratello, no? Certo, a volte lo guardo, sì, sì. Ah, sì, a volte lo guardi. La gola ti fai tonfi, però andacce, lo guardi a volte. No, e comunque... La gola ti fai tonfi, bella, eh. Però ripensavo perché Leonardo... Leonardo è un personaggio da prendere a piccole dosi, perché digerisci sempre un po' più tardi dopo, capito? Sei un po' un digesto. Però lascia, lancia uno slogan, perché ti devono votare? Senti, perché io se voglio buttare via un euro, perché diciamolo, c'è un costo questo te ne voto, certo. E quindi alla fine... Però io lancerei un appello fatto così. Se Dione guardi, tu dovessi passare, tutti coloro che ti hanno votato possono venire qui e fare un panino con la mortadella fatto da te. Quello si organizzerà sicuramente un bel buffet a base di mortadella. Ma vedete che sia a prima vista se è più da salame che da mortadella. È vero, è vero. Infatti... Infatti, diciamo che va parecchio la finocchiona in questo momento. Però ecco, volevo dire... Comunque, vogliamo dare questo numero di televoto? Poi... Diamolo, poi noi te lo scriviamo anche sul servizio. Esatto. Allora, si può votare da telefono fisso, sempre al costo di un euro, chiamando l'899, guardo bietto perché non me lo ricordo, 030309 e il mio codice di televoto è 33038. Al contrario, con sms al 4754750, posso fare anche la voce un po', sempre con il mio codice di televoto, come testo, 33038. Poi vi arriverà anche un sms di conferma. Così, che vuol dire che siete 33.038, questa è la 33.000esima 38. Esatto, è per quello che insomma avevo cominciato quasi a assaggiare questa vicinanza alla Porta Rosa, perché insomma eravamo veramente tanti e io adesso sono al quarantesimo posto della classifica. Tra l'altro... Insomma, delle speranze ci sono. Sì, e poi può essere anche che non succede nulla, perché insomma mi avevamo amanzinato a stare con i piedi ben saldi per terra, però lo dico anche nel video se poi avete... Con tacchi alti, ma con i piedi per terra. Esatto, lo dico anche nel video se avete occasione di andare a vederlo, che nella vita di primo lavoro faccio i provini, perché è da tipo qui, tipo quando avevo 12 anni... Che sogni questo... Sì, sì, sì. Per te sarebbe un grande traguardo. No, sarebbe un grande traguardo, poi ovviamente a me piace il mondo dello spettacolo, è una cosa detta così, insomma un po'... E allora aiutatela a dare questo colpo... Però vi darò delle grandi soddisfazioni, forse. In che senso, scusami. In che consistono queste soddisfazioni? Adesso che potrei fare, non ne so, delle coreografie piuttosto che intornare dei canti oppure... Io vorrei qualcosa di più particolare, insomma anche perché io cerco di aiutarti a dare questo colpo d'ala, se poi non si può... Ecco c'è la Marcella che... Marcella un attimo si arriva, se sta... se ne va, se ne va. Noi ti aiutiamo per un colpo d'ala, se poi un colpo è basta, te lo darei uguale. Quindi, anche se... Ma se me paghi, non mi ha detto così, mi ci dà un par di voti. Signora, lo scontrino. Lo scontrino, bisogna fare lo scontrino, vi è qua, vi è qua. Andiamo a fare... Andiamo a fare lo scontrino. Andiamo a fare lo scontrino per far vedere che la regina della mortadella, c'ha l'autoreggente, la calza francese, ma voglio dire, quando riscuote, riscuote. E qui, quei tempi che corrono, quando riscuote. 2,50. 2,50. Questa è la riprova, qui siamo tutti in regola e ti aspettiamo con la porta rossa. Comunque attenta, perché porte rosse ce n'è tante, anche io andai in un casino in Austria. C'è il caso anche di Piale nel capo. Comunque sta bene a chiedere su. Ok, ammetti che c'ho il push up, lo vedi che oggi almeno push up, così almeno quando ti spogli, diciamo in 2 euro. Si può mettere sulla mutanda? Si, si, lo può mettere anche sul pacco volendo. Comunque finiamo, perché se no veramente ci si prova a fare i seri, noi, ma insomma non ci riesce. Volevo dire che il televoto si chiuderà il 31-12 del 2011 a mezzanotte, quindi per l'ultimo dell'anno, quando siete lì a stappare lo champagne. Lo champagne. Quindi continuano anche a gennaio a mandare dentro la gente. No, esatto, si, si, continuano. Non sai che parte quel giorno. Quindi l'appello, diciamo, ecco, io alla posizione, alla fine, papabile ci sono già, perché loro sceglieranno, papabile perché è Leo tutto il giorno, che mani di qua, mani di là, papabile. No, voglio dire in che senso, questa posizione papabile come sarebbe? Deve essere tra il primo e il cinquantesimo posto, dove la produzione si riserverà di scegliere appunto il video del concorrente che entrerà a far parte del grande fratello a questo punto ovviamente primi dell'anno. Non sappiamo bene tutte le particolarità delle date, ma insomma, fino al 31-12 mi dovete votare perché devo rimanere lì. Certo, se avete anche 50 euro da spendere a settimana, il limite massimo sono 50 sms o telefonate settimanali. Settimanali, te te le fai, tu fai? E certo, io me le faccio, ho fatto un debito, faccio conto un buco che con la mortadella non la sfango. Bisogna iniziare col salame per davvero. E la finocchiona. Anche la soffrassata che è buona, eh, te lo giusto ora. Votate questa donna di Quarata, Valentina Marconi, il codice ve l'abbiamo scritto anche nell'intestazione del servizio, perché pensate che a Quarata lei è chiamata Dash, perché l'ha meglio resa a 90 gradi. Oddio, casomai, scusa ma ormai la finisco io perché la visto da lui, che sono ragazza alcolica, mi piace stare a 90 gradi. Ecco, esatto, è adatto, il grande fratello è adatto. E comunque... E anche un moccolo così. Ah, ecco, infatti il problema, il problema principale... Che non può moccolo. No, il problema principale è che tutti in casa mi diranno, ma secondo me sarai, se ti prendono la concorrente con minor tempo a disposizione, è passato nella casa, perché quando Alessa dirà, allora Valentina, cosa ci dici, sei con te? Io dirò, sì, poi, eh, capito. Perché lei di solito bestemmia mentre... No, non è che bestemmia, però diciamo che nel Toscano diventa anche una sorta di intercalare, questa è una scusa che lo dico in tutti, zitto che lo guarda anche il reverendo questo video, sicché niente, tutti a posto. Puoi giudere con un rutto in alternativa. No, però se potrebbe iniziare anche una gara volendo, insomma, a Miami sono vincitrice, detenitrice di un record di gare di rutti. Di rutti, sì. Sì, si fece un barbe con il mio fratello andai a trovarlo, questa perla, poi ci lasciamo. E abbiamo organizzato questo bar, perché è un modelli e modelle, che poi è andata a finire la gara di rutti. No, no, è andata a finire la gara di rutti, della quale io ritengo ancora ad oggi il titolo. A gennaio, se non ti fanno il tuo grande fratello, puoi andare a fare la riavuta. Sì, insomma, noi ci proviamo e... Ciao a tutti. Ciao a tutti. Da guardate tutto, la regina della mortadella, voi studio.